Ciao ragazze, allora oggi voglio fare questo tipo di video un po' diverso in cui vi mostrerò tutti gli outfit che ho indossato durante la settimana a scuola. Allora, lunedì ho indossato questo maglioncino color crema di Tully Whale, poi vi lascerò tutte le informazioni in un po' sul blog. E' appunto questo maglioncino molto caldo con questi jeans beige di Zara e ho perso la clip in cui vi mostravo le scarpe, ma sono degli stivali che ho preso in un negozio qui nella mia città e sono marroni con dei dettagli tipo di maglia, sono molto carini, comunque dei stivali marroni. Questa collana di Zara io la adoro e tra l'altro era abbinata anche alle unghie e il trucco è il tutorial di primavera, l'ultimo tutorial che ho caricato, i capelli erano mossi. Poi, martedì, ho indossato questo maglioncino rosa abbastanza largo, rosa antico di H&M, con questi pantaloni a vita alta color borgogna di Laura Biagiotti, vintage diciamo erano di mia mamma. Poi, questa collana a confinto colletto è di Penis e l'ho presa in Irlanda, le unghie sono sempre le stesse, vi lascerò anche i colori degli smalti sempre sul blog. Come orecchino ho indossato dei semplici punti luce e le scarpe sono delle All Star basse color borgogna. Mercoledì ho indossato questo vestito color grigio antracite di H&M, molto semplice, con questo cardigan a righe bianco e nero sempre di H&M e questa sciarpa rosa fosforescente sempre di H&M. Come scarpe, questi amfibissimi il Doc Martens di Alcott, di vernice tipo comunque plastica lucida. Poi giovedì ho indossato questo maglioncino a trecci di Ralph Lauren Fuchsia, molto semplice, con questi jeggings di Jennifer. La collana è di Tiffany e i capelli ho fatto questa treccia un po' diversa da lo solito, diciamo che io non faccio mai la treccia comunque oggi e quel giorno avevo voglia di farla. Come scarpe, queste All Star alte, verde, verdi con delle specie di bolle bianche e queste rifiniture fucsia. Venerdì, stavo male quindi non sono andata a scuola, quindi passiamo all'outfit di sabato. Sabato avevamo anche la foto di classe tra l'altro, ho indossato questo maglioncino di Hollister con questa H sul davanti che fa abbastanza americano, con sotto questa camicia in similcifon diciamo di Pennis e ho lasciato uscire sia i polsini che sotto che anche il colletto che ho allacciato fino all'ultimo bottone. Sì, lasciate perdere le mie unghie che erano in condizioni pietose. Come scarpe, queste All Star sempre le stesse color borgogna e i pantaloni non sono sporchi sul ginocchio, che c'è quella specie di macchia bianca, ma sono fatti così, sono tipo slavati, quindi non lo so. Ecco, questo era il mio video, io spero tanto che vi sia piaciuto a questa nuova tipologia di video, se vi può interessare che ne faccia altri, potremo sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!